I Peul sono un'etnia nomade dell'Africa occidentale. Si possono incontrare in Mali, Burkina Faso, Ghana e appunto Togo e Benin. Dediti alla pastorizia e all'allevamento del bestiame si spostano periodicamente con i loro animali in cerca di nuove terre. Biazene Kale Manja Konnotto, Biazene Kale Nyombinkano. Saiyan Saya, Ibrahim, malhik malhik varusal nekakidham. La mia vita è la mia vita Maria Majanke Maria Majanke